A Pechino un complesso residenziale è stato classificato ad alto rischio Covid. Proprio due anni fa in questi giorni arrivavano dalla Cina le prime frammentarie informazioni sul virus ed è da allora che sono profondamente cambiati i rapporti tra l'Occidente e il paese asiatico. Da Washington a Anna Maria Laricchiuta. È proprio in questi giorni che due anni fa arrivavano le prime notizie di un misterioso virus a Wuhan. La Cina da allora va avanti tra l'apertura e il lockdown mentre continua a fare istruzionismo per una reale inchiesta sugli origini del Covid. Nelle relazioni con Pechino gli Stati Uniti hanno abbandonato le strategie di cooperazione per un cambio di rotta più muscolare deciso dall'ex Presidente Trump per proteggere gli interessi e i valori americani. Un solco lungo il quale sembra muoversi anche l'attuale Presidente Biden come ci spiega Richard Fontaine a capo di un prestigioso think tank americano. Ci sono più similitudini tra Biden e Trump che con Obama. Biden è arrivato con un approccio molto duro nei confronti di Pechino. Gli Stati Uniti al momento hanno una strategia? A mio parere quello che manca in questo momento è un obiettivo. Le azioni contro la Cina senza un obiettivo chiaro rischiano solo di sprecare risorse. Due anni dopo il Covid, lei pensa che la Cina ora sia più forte o più debole? È più forte di prima. Il virus è iniziato in Cina, ma l'abilità con cui viene esercitato il controllo sociale, l'aiutata ad uscire prima dalle sabbie mobili della pandemia e da recuperare economicamente. Andiamo adesso in Afghanistan, dove gran parte della... Il virus è iniziato in Cina, ma l'abilità con cui viene esercitato il controllo sociale.